Ciao a tutti e a tutte e a tutto ciò che c'è in mezzo, è finita la seconda settimana di questo Giro d'Italia e io sono ancora in qualche modo sano, assolutamente sanissimo di mente AAAAAAAA Va tutto bene, va tutto bene, va tutto bene, va tutto bene, va tutto Non sono ancora in burnout, siamo vivi, siamo vegeti e siamo sopravvissuti anche a questa devastante tappa di montagna devastante per i nostri, come dire, pignoni una tappa di montagna che sapevamo da quando è stato rivelato il percorso del Giro che era stata disegnata in una maniera decisamente controintuitiva, soprattutto a livello di spettacolo e non ha tradito in questo senso perché il gruppo Maglia Rosa si è preso un grossissimo giorno di riposo anticipato dopo aver fatto il delirio nella tappa di ieri è la solita storia, la solita storia di queste tappe di montagna con pendenze molto pedalabili e devo dire che considero un bello spreco aver fatto questa tappa di domenica anche se poi è coincisa con un sacco di altri eventi sportivi dalla grossa magnitudo che magari neanche un mega tappone del Giro avrebbe bucato a livello di visibilità però, 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 però la cosa meravigliosa in questa tappa è stata ovviamente la lotta nella fuga per la vittoria del singolo giorno fra un sacco di delusi delle prime due settimane e svariati altri protagonisti classici di queste situazioni vedi lo zio Bauke ho voglia di citarlo proprio così bello zio ma devo dire che in realtà anche la stessa lotta per chi avrebbe vinto alla fuga alla fine è risultata abbastanza scontata Giulio Ciccone era incontrovertibilmente e nettamente il più forte di tutto quel gruppone di 25 era il più forte, il più furbo e quello con più motivazione degli altri dopo tre anni molto difficili per lui è scoppiato totalmente a piangere quando ha vinto sul traguardo di Cogne ma obiettivamente è partito a 19 km alla fine non l'ha più visto nessuno anche fino a lì aveva deciso lui praticamente tutti i tempi della fuga era andato a riprendere quando ha voluto i tre davanti con Bowman e Mathieu Van Der Poel che come al solito ha fatto il pazzo ha scelto tutti i punti più duri delle varie salite per scattare per mettere in difficoltà gli altri e è stato anche tatticamente perfetto al contrario di Hugh Carty che gli ha dato quel paio di cambi mentre stava già morendo totalmente sull'ultima salita nel tratto dal 10% prima del lunghissimo falso piano che arrivava fino alla fine lì Hugh Carty si è totalmente consumato prima per andare a riprendere Ciccone e poi appunto per aiutarlo in qualche modo a tenere dietro Buitrago a tenere alta l'andatura ma lì avrebbe dovuto assolutamente mettere sulla poker face secondo me e cercare di risparmiarsi un pochino anche eventualmente facendo arrabbiare Ciccone eventualmente perdendo qualche secondo su Buitrago per creare qualche gioco ma doveva mettersi un attimo a respirare lì non dargli quei due cambi il Cico ha saputo capitalizzare alla grande questa pesca che ha fatto proprio con lo huge al cammellone nazionale che obiettivamente in questo giro non ha assolutamente rubato l'occhio per ora ruba l'occhio oggi totalmente Giulio Ciccone dominantissimo su questa tappa ho veramente poco a dire se non esprimere la più grande felicità per lui che ha passato veramente dei pessimi momenti a livello mentale perché quando ti esponi tantissimo ti autocrei e ti creano da fuori delle grosse aspettative che poi non riesci a rispettare anche per colpa di tanta sfortuna eventi esterni allora sono quelli i momenti più difficili da superare per un atleta comunque lo sapete non mi nascondo secondo me questa tappa è stata assolutamente noiosissima e ripeto organizzarla di domenica è stata non so una disdetta comunque al di là della noia è del fatto che la noia passa molto più velocemente se vissuta tutti insieme per esempio seguendo tutti insieme la tappa su Twitch mi piace sottolineare come dopo una prima settimana nella quale l'elefante nella stanza era l'assenza di vittorie di atleti italiani in questa seconda si sono decisamente fatti valere con la vittoria involata di Alberto Dainese dopo una tappa mista di Stefano Oldani e in una tappa in montagna di Giulio Ciccone così abbiamo completato tutto il trittico delle tipologie di tappe possibili aggiungiamoci il fatto che Vincenzo Nibali e Domenico Pozzovivo stanno facendo della gran classifica e hanno fatto una tappa ieri a Torino veramente immaginifica le potenzialità degli atleti che abbiamo in gioco sono state rispettate hanno performato al loro meglio possibile perché è questo che possiamo chiedere ai nostri atleti non è che si può immaginare di avere un corridore fortissimo da classifica generale che non abbiamo e quindi rimanere delusi ogni volta che non c'è nessuno in top 3 però se c'è qualcuno in top 5 top 10 che magari non t'aspetti è lì che devi essere soddisfatto questo essendo realisti ovviamente e prescindendo dai discorsi sistemici che ovviamente vanno fatti e facciamo sempre però al di fuori magari di questi momenti di corsa nei quali ci possiamo godere per esempio questo Domenico Pozzovivo veramente oltre ogni aspettativa praticamente uguale al se stesso di 5 o 6 anni fa è un Vincenzo Nibali che nella tappa di ieri ha dato veramente un sacco di spettacolo e sta lasciando le ultime pennellate della sua carriera al giro insieme a loro queste tre grandissime vittorie di tappa perché Alberto Ainese ha battuto in volata secca alcuni dei velocisti migliori del mondo e l'ha fatto con grande sia furbizia sia gamba colpo d'occhio posizionamento tutto quanto Stefano Oldani ha praticamente dominato una fuga anche lì niente male è riuscito a cogliere la fuga nella fuga e a battere agilmente i suoi due compagni in volata e tra l'altro lo stesso Lorenzo Rota ha fatto super bene ovviamente in quella tappa oggi Giulio Ciccone si è dimostrato nettamente ma proprio nettamente il migliore sia in salita sia in discesa e tra l'altro sarebbe stato molto probabilmente anche in volata ristretta di tutta quella fuga di 25 piena zeppa di garati ciclistici nel frattempo chiaramente c'è anche chi sta deludendo chi non ha assolutamente catturato l'occhio al volo mi vengono in mente Lorenzo Fortunato e Rocciaformolo che comunque la sua bella tappa a potenza l'aveva fatta ma da lui probabilmente si aspetterebbe un po' di più è il contrario del discorso invece che facevo prima per esempio per Pozzovivo per Oldani o per Dainese insomma prendiamo quello che possiamo prendere e in questa settimana era difficile prendere di più di quello che abbiamo preso sarebbero un paio di protagonisti da bestia rara da piccare oggi ma per sottolineare quanto sia stata noiosa questa tappa quanto sia stata povera di eventi e per rendere merito a tutti noi voglio dedicare il brindisi odierno alla nostra community per aver superato tutti insieme anche questa seconda settimana forza ragazzi viva la sanità mentale viva il giro Italia e alla vostra o comunque col ghiaccio spacca questo era il digestivo di oggi io do l'appuntamento a tutti al podcast di Pieterotolanti domani come sempre di lunedì dove parleremo ovviamente soprattutto di chi penseremo io e Marco Grassi potrà vincere questo giro Italia in terza settimana in una terza settimana che si preannuncia veramente devastante speriamo che ci sia grande lotta per questa classifica generale che non si stia lì a guardare che non si speculi troppo che ci siano grandi azioni di squadra come abbiamo visto già sabato a Torino con la Borans Grohe questo era il digestivo io sono Pieterotolanti qua sotto ci sono un sacco i tasti e il link da premere per compiere azioni che portino dell'energia positiva nell'universo ci vediamo ai prossimi video ciao